Buongiorno dagli studi di BTV News. Oggi 6 febbraio e San Paolo Michi e compagni. Paolo Michi è il primo martire giapponese o meglio primo giapponese caduto martire per la propria fede cristiana. Infatti non si tratta di un missionario caduto in Giappone ma di un cristiano del Giappone esemplare nella vita ed esemplare soprattutto nella morte. Oggi è anche la giornata mondiale contro le mutilazioni genitali femminili. Le mutilazioni genitali femminili sono una forma di violenza che calpesta i diritti di bambine e giovani donne mettendo a rischio la loro salute fisica e psicologica e che deve vedere tutti quanti noi impegnati in una battaglia che non riguarda solo le donne ma a che fare con lo sviluppo dell'intero genere umano. Almeno 200 milioni di ragazze e donne vivono oggi nel mondo con le cicatrici di qualche forma di mutilazione genitale subita nel corso della propria vita. Le mutilazioni vengono praticate principalmente su bambine tra i 4 e i 14 anni di età. Tuttavia in alcuni paesi vengono operate bambine con meno di un anno di vita come accade nel 44 per cento dei casi in Eritrea e nel 29 per cento dei casi nel Mali o persino neonate di pochi giorni come nello Yemen. La pratica può causare complicanze a breve, medio e lungo termine tra cui dolore cronico, infezioni, aumento del rischio di trasmissione dell'HIV, ansia e depressione, complicazione al momento del parto, infertilità e nei peggiori casi la morte.